Oggi siamo a San Vigilio assieme al mio cameraman capo Vado a seguirlo su Instagram che non lo sto pagando Siamo San Vigilio e... Dove ragazzi dici? No! 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 It's a io Un'š e 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 grazie capo si è uscito bene grazie da quante volte sei caduto zero mai per ora ho pensato che mi stessi insultando ha detto ma sei un genio e grazie ma più o meno e e e e e e e